Francesco Morelli, questa sera portiere dell'Enzo Laurenzio, una sconfitta pesante contro la capolista per 6 a 1, però Francesco 2 a 1 alla fine del primo tempo e poi? Poi si è spenta la luce, si sperava in una reazione, un qualcosa che si potesse sperare nella ripresa, invece ci siamo affossati definitivamente e nel secondo tempo c'è stata un'escalation completamente negativa, la squadra ha ceduto di schianto e il risultato rispecchia proprio i valori in campo. Cosa manca Francesco in questa squadra per almeno cercare la prima vittoria del campionato? Innanzitutto il portiere, perché oggettivamente io non posso continuare a ricoprire questo ruolo e poi un po' di amalgama, un po' di grinta, un po' più di determinazione. Grazie Francesco. Prego.